Ben ritrovati in questo nuovo aggiornamento meteo. Attualmente in transito una debole perturbazione, la prima del mese di febbraio, la si nota anche dall'immagine satellitare. Nelle prossime ore sarà capace di portare piogge sparse sui nostri settori tirrenici, anche in Umbria, maggiormente insistenti le piogge sul settore del basso tirreno, locali piogge anche in Sicilia e in Sardegna, mentre vi segnalo deboli nevicate sul nostro settore alpino occidentale. Quest'oggi non mancherà la nuvolosità e nella giornata di domani invece l'instabilità riguarderà essenzialmente il sud. Al nord occorrerà fare attenzione alle nebbie in diffusione in Val Padana. La notizia della settimana però è il rialzo delle temperature che riguarderà le nostre regioni centro-meridionali. Da modello la vediamo questa massa d'aria calda che porterà un anticipo di primavera al centro-sud, mentre al nord il clima resterà più grigio e a tratti anche nebbioso. Grazie per la visione!